ok arriviamo a metà vai ok vai frena falla girare aspetta porta dentro vai ok vai punta lì frena falla girare aspetta vai ok vai ancora frena frena punta aspetta gira vai ok vai punta il freno falla girare adesso ok vai frena di nuovo aspetta frena falla girare ora ok vai niente ci sta vai frena porta là dentro ora ok vai di nuovo frena gira ora vai ok ok cerramo leggermente il limite è già in ingresso sì vai arrivi bene freni imposta vai ok ci sta fanno scodare un pelino e basta intanto vai punta il freno falla girare vai apri ok vedi molto docile frena falla girare tieni frenato ancora vai ok ok leggermente troppo ma perché è la marcia ci sta però hai visto che l'uscita di là era molto molto docile andare fuori punta falla girare guarda dove devi andare vai arriva frena punta guarda all'interno guarda fuori ok vai arriviamo qua freno la facciamo girare la fai partire guardiamo l'uscita e ci allineiamo arriviamo qui in posti così gira sì la faccio andare punto qui la raddrizzo freno sono dentro sì faccio partire guardo là va bene appunto qua ok arrivo qui freno la faccio entrare in curva fare ancora uno per favore arrivo qui punto sono dentro sì sono dentro accelero seguito di attraverso la porto fuori vado a vedere l'uscita devo andare di là con altra curva freno apro ok la faccio girare qui apro così ok vai che c'è vai per l'ultimo qui punta impostala vai vai che c'è guarda fuori vai che c'è ok perfetto frena punta gira imposta apri tienilo anche di gas che guarda là ok perfetto frena frena punta vai tienila tieni guarda il palo tienila tienila ok grande frena impostiamola vai che gira tienila guarda il palo portala fuori ok prova a guardare un pochino che a destra del palo tiro destra si vai 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 ragione frena frena gira apri tienila tienila perfetto tienila ci sta eravamo a fine corse da sterzo fa niente frena imposta vai 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 tienila di gas punta là tienila ok frena rimposta vai tienila guarda a destra del palo perfetto grande frena 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 ok grande com'è adesso? tanta roba perché iniziamo proprio a portarla fuori tecnica F VA SM F F F F F F F che figata non credo che riuscirò a farlo così ma c'eri perché comunque io ho unito due metri che tu non avevi unito poi ci siamo a fianco e dici che figata l'hai fatto, l'hai fatto uguale ma gli unici dove io ho fatto un periodo di sottosterzo prima invece di essere sottosterzo io col culo spostato tu eri dritto ma due metri, ci siamo ci siamo, carico? eh sì, dai ci provo prena, gira, vai oh, prena occhio, devi stare più in là punta dai che c'è, tieni, tieni prena gira dai che ha preso, vai tienilo, punta punta di lì meno, un po' di meno prena prena asti un pelino di freno lo chiedi vieni che c'è sì ok prena apri punta di là, vai 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 vieni dietro dai prena vai prena ok qua era un cacchino troppo vai vai vieni prena piano grande grande era quasi grande brav ielen bec